La seconda edizione di Cadaver Lab, una serie di corsi sulla chirurgia vertebrale e cranica, si tiene a Palazzo Trecchi a Cremona dal 18 al 21 maggio. L'evento formativo è organizzato da ASST Cremona in collaborazione con la Human Trecchi Academy. I corsi saranno tenuti anche da famosi relatori internazionali che presenteranno le tecnologie più all'avanguardia in ambito neurochirurgico. Tra questi Shane Tubbs, uno dei più importanti neuroanatomisti al mondo. Per la didattica verranno utilizzati dei cadaveri che arrivano dall'Olanda, paese in cui è consentita la donazione del proprio corpo, e dagli Stati Uniti, dove l'utilizzo del corpo a scopo medico-scientifico viene ceduto dietro compenso. Rispetto a quelle dell'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto un upgrade, sia per quanto riguarda la Faculti, avremo una Faculti internazionale, sarà presente il professor Tubbs da New Orleans, che è il direttore dell'istituto di anatomia e del laboratorio di microchirurgia dell'Università di New Orleans. Sarà presente in collegamento il professor Borba, che è il presidente mondiale delle società di chirurgia del basicranio, e il professor Mishra di Mumbai, che è il direttore della neurochirurgia di Mumbai. I partecipanti al corso, anche loro, arrivano da tutta Italia. Cadavere Lab è la realtà che più si avvicina a quello che noi poi vediamo in sala operatoria, quindi in questi giorni proporremo l'esecuzione di procedure chirurgiche estremamente complesse, sia per quanto riguarda la chirurgia vertebrale, che per quanto riguarda la chirurgia cranica. L'obiettivo non si ferma a queste quattro giornate, ma si vuole far diventare Cremona sede nazionale ed internazionale di formazione permanente per giovani neurochirurghi. Soprattutto quello che è il nostro obiettivo un po' ambizioso è quello di trasformare in collaborazione col Trecchi questo appuntamento come un'accademia di formazione continua e permanente per i giovani neurochirurghi.